Musica Salve amici del Centro Meteo Italiano, progressivo peggioramento del tempo nei prossimi giorni con maltempo di stampo autunnale entro il weekend. Passaggio instabile che entro la giornata di domani porterà un po' di piogge sulle regioni del centro-sud. La situazione sinottica a partire da metà della settimana vedrà una vasta perturbazione atlantica avvicinarsi all'Europa occidentale e poi al Mediterraneo. Piogge temporali in arrivo inizialmente al nord, mentre un netto ma temporaneo rialzo termico interesserà il centro-sud. Con l'arrivo del weekend tutti i principali modelli confermano il maltempo di stampo autunnale per l'Italia con precipitazioni abbondanti a nord e sui settori tirrenici. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti i prossimi giorni! Grazie a tutti.